Cari amici bentornati, eccoci arrivati alla terza puntata nel nostro percorso di conoscenza della siciliana Neidorf. Dopo aver visto le migliori partite dei progenitori di questa variante, ovvero Pochensky e Neidorf stesso, dopo aver visto le partite di Fischer che è stato il primo grande giocatore ad aver adottato stabilmente la Neidorf nel suo repertorio, siamo adesso arrivati naturalmente all'altro grande personaggio ad aver utilizzato la Neidorf stabilmente, ad aver segnato la storia di questa variante, ovvero naturalmente Gary Kasparov. Scegliere le partite in questa variante di Kasparov è veramente un'impresa improba considerando quante ne ha giocate, però ho cercato di suddividere il video nelle varie fasi della carriera di Kasparov, ovvero nella sua giovinezza negli anni 80 e negli anni 90 e una sorpresa poi negli anni più recenti. Iniziamo subito dalla prima partita in cui vediamo Kasparov utilizzare Neidorf a soltanto 14 anni, in una partita estremamente giovanile. Allora, Kasparov appunto è in nero, l'avversario gioca la variante alfiere G5 che è naturalmente considerata una delle varianti più critiche. Kasparov risponde con E6, F4, naturalmente con F4 si minaccia subito la spinta in E5 che sfrutterebbe l'inchiodatura dell'alfiere sul cavallo e Kasparov qui adotta la complicatissima variante Polugajewski in cui il nero risponde subito con B5, quindi porta all'estremo i concetti di controgioco della Neidorf senza apparentemente preoccuparsi della spinta in E5, perché l'idea è che sulla spinta in E5 il nero non perde il pezzo grazie alla mossa donna C7. Il bianco cattura in F6 ma il nero dà scacco in E5 e va naturalmente a catturare l'alfiere in G5. Una concezione estremamente naturalmente pericolosa perché il nero fa tantissime mosse di donna e rimane in completo arretrato di sviluppo, però per tanti anni si è cercato di confutare questa variante senza mai riuscirci. L'avversario, il giovane avversario di Kasparov decide però di non entrare in questa variante complicatissima e gioca la mossa A3, che è un pochino timida ma non sbagliata e in qualche modo naturalmente previene la spinta in B4. Kasparov gioca al fiere B7 e inizia a premere naturalmente sul pedone in E4. Donna E2 che difende il pedone in E4, al fiere E7. Quindi apparentemente il bianco, pur essendo il giocatore che inizia per primo, sta cercando di consolidare il suo vantaggio iniziale. Quindi gioca delle mosse apparentemente solide per difendere la sua struttura pedonale. Arrocco lungo, cavallo D7, continuano i due giocatori in modo estremamente logico. Qui la teoria moderna consiglia la mossa, non donna B6 appunto giocata invece da Kasparov, consiglia la mossa H6 seguita da G5. Un'idea estremamente moderna in cui il nero sacrifica un pedone e naturalmente rinuncia all'arrocco corto però conquista la fortissima casa E5 per il cavallo. Naturalmente la teoria afferma che questa è la strada migliore per il nero. All'epoca Kasparov probabilmente non era neanche minimamente a conoscenza di quest'idea e gioca semplicemente quindi donna B6 che è tipica di questa variante e preparano ovviamente l'assalto sul lato di donna. Alfiere H4, un'idea molto importante. Il giovane avversario di Kasparov gioca molto bene in quanto ritirando l'alfiere si prepara la spinta in G5 che è naturalmente propedeutica all'attacco sul lato di re che vuole fare il bianco in questa variante. Cavallo C5, il nero non pensa naturalmente ad arroccare, sarebbe estremamente pericoloso, invece contro gioca di nuovo sul pedone in E4 che adesso è attaccato tre volte e difeso soltanto due. Quindi cosa fa il bianco? Gioca al fiere G2, completa il suo sviluppo e va a difendere il pedone. Cosa fare a questo punto? La situazione è già estremamente tesa come ovvio in una variante come la Neidorf. Qui la mossa tematica sembrerebbe a questo punto la spinta in B4. Il bianco ovviamente è tenuto a cambiare ma attenzione qui iniziano i fuochi d'artificio. E5 attaccando il cavallo e naturalmente aprendo la diagonale. Il nero deve prendere in E5 e qui dove andare con il cavallo? Si scopre che la mossa apparentemente più naturale ovvero cavallo D7 contro giocando sul pedone E5 non funziona perché il bianco prende in B7, prende in E7 e poi gioca semplicemente B4 e incredibilmente il cavallo in C5 non ha nessuna casa in cui poter ritirarsi, in cui poter salvarsi dall'attacco. E naturalmente se la donna prende in B4 cavallo C6 dà il doppio decisivo di cavallo. Quindi Kasparov è forte di tutto questo. Naturalmente il computer ci segnala l'assurda cavallo G8 come una possibile mossa difensiva. Kasparov ovviamente decide di non entrare in una variante del genere e gioca subito per prendere l'iniziativa. Cavallo A4 senza preoccuparsi di rovinare la sua struttura pedonale. Quindi in questo modo rinuncia alla spinta in B4 ma ha aperto entrambe le colonne B e C su cui cercherà di naturalmente impiantare il suo contro gioco. L'avversario gioca G5 molto tematicamente. Il computer ci segnala che la preventiva alfiere F2 sarebbe stata migliore. Insomma G5 naturalmente non si può criticare, è una mossa molto tematica. Cavallo D7 ora però il bianco ha necessità di far avanzare anche il suo pedone H. Purtroppo però per lui l'alfiere H4 si trova proprio sulla strada del pedone H. Quindi che cosa fa? Bisogna ritirarlo. Dove ritirarlo? Allora alfiere F2 sembra una mossa naturale appunto che attacca anche la donna indirettamente. Però attenzione non è così facile perché si scopre che il nero può appunto, che il controgioco del nero sulla colonna B è molto pericoloso e quindi il bianco deve come in partita mettere l'alfiere in E1 per poter andare in C3 e difendere il pedone B2. Cosa succede se il bianco non gioca come invece F2 era in partita alfiere E1 appunto per andare in C3. Se giocasse alfiere F2, cavallo C5 chiude la diagonale e porta un altro pezzo in attacco, H4, il bianco continua la sua azione tematica, torre B8 e qui attenzione perché adesso il nero minaccia di togliere l'alfiere e attaccare contemporaneamente il pedone B2. Una mossa come C3 cercando di difendere il pedone in B2 indirettamente porta il bianco alla rovina perché il nero comunque prende in E4 e se il bianco recupera il pezzo in E4 purtroppo per lui subisce il matto in B2. Quindi in considerazione di tutto questo il giovane avversario di Kasparov gioca alla corretta alfiere E1 con l'idea di portare l'alfiere in C3 e difendere il pedone B2. Quindi ora naturalmente una mossa come torre B8 viene replicata semplicemente dall'alfiere C3 occupando la lunga diagonale. Allora Kasparov trova il momento di arroccare che è una mossa molto pericolosa naturalmente perché il bianco inizia subito a sferare il suo attacco ma è tipico di questa variante è la natura degli arrocchi eterogenei. Non si può diciamo tirarsi indietro nessun momento di esitazione e anche il nero contrattacca alfiere C3 torre C8. Il nero è pronto naturalmente a sacrificare la qualità in C3 pur di aprire brutalmente la colonna B. Il bianco giustamente gioca torre H3 andando a difendere l'alfiere in C3. Alfiere E8 adesso a questo punto alfiere torre in C3 non funzionerebbe perché è vero che si attacca il pedone B2 ma il bianco semplicemente lo avanza e nonostante l'apparente indebolimento dell'arrocco del bianco in verità non c'è nulla per il nero in questa variante. Quindi il nero preventivamente gioca alfiere A8 minacciando la presa in C3 seguita dalla presa in B2 ma il bianco non si fa spaventare e gioca semplicemente donna G4 portando anche la donna in attacco. Non è la mossa migliore probabilmente la mossa migliore sarebbe stata donna E1 andando a difendere due volte l'alfiere in C3 ma naturalmente è una mossa un po' da computer donna G4 unendo la donna all'attacco e magari gettando anche un'occhiata sul pedone in E6 è sicuramente molto più umana. Kasparov a questo punto non esita e va a prendere in C3 e qui però attenzione andare a prendere in B2 sarebbe possibile soltanto a patto di in questa posizione giocare la difficile e molto computeresca mossa donna A2 con l'idea di andare a difendere il pedone E6 fondamentale perché il bianco qui gioca a G6 si cambia tutto e in questo momento vedete com'è cruciale in questa posizione aver difeso preventivamente il pedone in E6. Kasparov non diciamo entra in queste varianti così sottili e gioca invece per portare un altro pedone in attacco e qui diciamo adesso è curioso analizzare questa partita alla luce dei naturalmente dei motori schiacchistici moderni perché perché diciamo in questa posizione il computer vede un vantaggio del bianco ma è un vantaggio che nasce da una sequenza di mosse estremamente sottile quindi come dire la Neidorf è una variante che non perdona il bianco la minima esitazione la minima incertezza consente al nero di rovesciare il fronte è proprio questo diciamo che poi Kasparov già in questa giovane età chiaramente ha sviluppato quindi questa tendenza questa ossessione oserei dire verso l'iniziativa perché naturalmente si mette l'avversario sempre più in crisi e lo si costringe a trovare una sequenza di mosse perfette che la maggior parte dei casi il giocatore di bianco non riesce a trovare e questo sarà anche il caso dell'avversario di Kasparov che gioca giustamente f5 quindi continua la sequenza e 5 e qui arriva il momento cruciale la differenza appunto tra una partita di successo tra un attacco di successo e un attacco fallito e qui l'avversario di Kasparov è Levon Eolian gioca cavallo e due e già voglio dire agli occhi moderni questa è una mossa oserei dire che non suona come una mossa giusta in effetti qui la mossa giusta c'era nella forma della spinta in f6 perché perché naturalmente se il nero ritirasse l'alfiere allora il bianco prenderebbe in g7 e si sarebbe liberata la casa f5 per il cavallo e qui naturalmente il cavallo in f5 fa tutta un'altra figura rispetto a ritirarsi in e2 altrimenti se invece il nero insiste nella cattura in d4 allora la presa in e7 se il nero prende in c3 naturalmente minacciando il matto in b1 non fa in tempo perché il bianco può ricatturare il pedone e anche se da scacco minacciando di catturare la torre in verità con re d2 il bianco difende la torre e incredibilmente nonostante diciamo la posizione del re bianco sembri piuttosto esposta in verità come vedete analizzando un po si vede che non c'è niente per per il nero in questa posizione e quindi il bianco rimane con una solida qualità di vantaggio un pedone prossimo alla promozione e continua ad avere il suo attacco invece eolean gioca a cavallo e 2 e qui naturalmente entriamo nel terreno di kasparov gioca d5 che sorprendentemente ecco è un errore da un punto di vista tattico quale sarebbe stata la mossa giusta la mossa giusta sarebbe stata alfiere c6 con l'idea di rispondere a f6 che è sempre comunque nell'aria con alfiere d7 attaccando la donna e attaccando la torre la stessa idea si poteva avere dopo aver dato lo scacco in b2 alfiere c6 sempre con la stessa idea però ripeto questa è un'idea un po da computer e invece kasparov gioca per l'iniziativa gioca d5 c'è un'idea tattica qual è l'idea di kasparov che se il bianco prende in d5 e4 subito per aprire tutte le linee e il bianco va a guadagnare un pedone in e4 ma l'alfiere che fino a poco fa sarebbe stato fatalmente attaccato dal pedone in f6 adesso invece viene a nuova vita dando scacco e il nero ha un vedete due alfieri fortissimi e soprattutto un completo controllo sulle case scure re d2 e qui kasparov aveva preparato alfiere prende in d5 con l'idea naturalmente che la donna non può prendere in d5 per torre d8 e il nero guadagna la donna quello che kasparov non aveva analizzato è che in questa posizione incredibilmente l'apertura della colonna d non è poi così fatale se il bianco semplicemente va a prendere in a4 però vedere questa posizione con due alfieri molto forti in campo aperto e il re così esposto ecco andare per il bianco a fidarsi che non ci fosse nulla di di forte per il nero beh insomma ci voleva una veramente un sangue freddo che il bianco in questa occasione non è riuscito ad avere e che cosa ha fatto tardivamente ha giocato la mossa f6 quindi quella stessa mossa che nel tratto precedente questa posizione sarebbe stata molto vantaggiosa una mossa dopo diventa addirittura perdente perché perché il nero prende in e4 adesso il pedone d5 gli permette la difesa il pedone in e4 alfiere prende in e4 e adesso che il pedone d è avanzato appunto come detto l'alfiere può entrare con scacco prendere e qui come dire si apre la colonna d si aprono i diagonali e il re bianco è veramente molto molto esposto notate però la differenza no come come difficile giudicare queste posizioni abbiamo detto questa posizione non c'è niente per il nero questa posizione il nero sta vincendo quindi vedete certo ci sono delle differenze ma voglio dire non sono proprio facili da cogliere occhio nudo re 1 il re bianco prova a scappare alfiere c5 casproff dimostra subito di adorare la coppia degli alfieri no questo è un tema che si ripeterà spesso nella carriera di casproff e anche nelle partite che andremo a vedere oggi tonne f5 bianco prova a fare del suo meglio ma il nero porta il pedone in avanti prossimo alla promozione e poi dopo chiude il re bianco con in una tomba potenzialmente con questo pedone cavallo c1 alfiere d4 attaccando naturalmente la donna e andando a proteggere la casa di promozione la donna si sacrifica in b8 cavallo prende in a2 ma donna f4 e qui con il matto ormai molto vicino eolian ha abbandonato e si vede in quella posizione finale insomma l'estrema potenza della coppia degli alfieri quindi sorprendentemente il il diciamo la coppia degli alfieri si è rivelata l'elemento decisivo di questa partita quindi che cosa si può vedere già in queste giovanissima in questa partita del giovanissimo casproff beh una passione quindi una passione per l'iniziativa una capacità di gestire il rischio naturalmente posizioni molto complesse quindi è una come dice casproff non ha mai frenato non ha mai messo il piede sul freno in questa posizione anche a costo di prendersi dei rischi molto importanti qui eravamo nel 1976 passa qualche anno e casproff sta giocando nel campionato del mondo under 20 contro il già forte giocatore in 2004 arnason arnason tre anni prima aveva già perso contro casproff nel campionato del mondo under 17 quindi come dire aveva già assaggiato i denti del dell'orco di bacco insomma come viene chiamato casproff i due giocano ovviamente ancora la night off ma arnason decide di giocare con calma alfiere 2 una variante più tranquilla casproff naturalmente risponde in puro stile night off i due entrano una variante ben nota e donna d3 è un approccio super solido da parte di arnason quindi vuole subito consolidare il suo controllo di della casa d5 che diciamo da un punto di vista nominale naturalmente una debolezza per il nero e giocare in modo molto solido cavallo c6 e cavallo gd5 subito per come dire appropriarsi della casa d5 e magari anche andare a minacciare la cattura in f6 e proprio per questo motivo casproff gioca la finissima mossa alfiere g5 di nuovo dimostrando quanto casproff tenga alla sua coppia degli alfieri non vuole permettere al bianco di catturare il suo alfiere in f6 arrocco corto cavallo e 7 andando subito a contrattaccare a contrastare la presenza del cavallo in d5 il bianco prende in e7 e improvvisamente sì certo il bianco continua a godere della della debolezza della casa d5 ma intanto non ha più un cavallo per sfruttarlo torre d1 torre d8 e qui cosa fare probabilmente sarebbe stata la cosa migliore a questo punto tanto ha fatto il bianco per per appropriarsi della casa d5 avrebbe forse fatto meglio a insistere giocare c4 magari replicando con cavallo d2 e poi b3 proprio per consolidare completamente una sorta di formazione maroxi anche se non sarebbe stato al sicuro dal controgioco sulla colonna f che sicuramente casproff avrebbe portato con la spinta in f5 invece arnason preferisce la mossa cavallo a5 con l'idea di portare il cavallo in c4 e questo però è un errore perché il pedone d6 certo non starà lì fermo a farsi catturare ma sarà pronto ad avanzare in d5 cosa che nella neidorf è già nello spirito della posizione figuratevi se lo si invita il nero ad avanzare il pedone in questo modo avanza in d5 si cambia tutto in d5 e forse arnason pensava che cambiando tutto in d5 si potesse avvicinare alla patta contro il suo fortissimo avversario ma come dire avvicinarsi alla patta in modo così passivo non è mai una buona idea donna f5 è un errore sarebbe stato a questo punto meglio giocare donna g3 almeno cercando di stabilizzare la posizione donna f5 un errore che casproff non capitalizza e avrebbe dovuto farlo entrando nel finale sacrificando un pedone non era facile sacrificare il pedone torre 8 naturalmente avrebbe minacciato la cattura dell'alfiere e2 cavallo f3 avrebbe salvato il pezzo perché il nero avrebbe catturato in e2 ma il bianco avrebbe catturato in g5 però la torre sulla seconda traversa unita naturalmente alla superiorità dell'alfiere sul cavallo avrebbe dato al nero un forte vantaggio in questa posizione ma casproff è da giocatore di attacco qual era naturalmente forse non voleva neanche entrare nel finale e gioca quindi per l'attacco nel medio gioco nel far questo però in qualche modo sciupa una buona parte del suo vantaggio si cambiano le torri il computer sono parecchie mosse che continua a consigliare la presa in e3 che certamente avrebbe dato al nero un piccolo vantaggio ma casproff sappiamo quanto è geloso della sua coppia degli alfieri quindi non lo prende nemmeno in considerazione prova a fare un'incursione di donna ma arnason risponde freddamente con donna d7 qui il computer si inventa dei consigli un pochino sovraumani come una mossa come c3 andando a sacrificare il pedone b2 soltanto poi donna d7 quindi insomma mosse difficili diciamo da capire da un punto di vista umano donna d7 di arnason è decisamente andando subito ad attaccare l'alfiere sicuramente molto più umana casproff torna indietro con la torre e arnason si dimostra pronto a ripetere la posizione casproff naturalmente non è la stessa idea e gioca e4 ritira la donna il bianco donna d8 cambiando le donne apparentemente quindi facendo sempre più avvicinare il bianco alla alla patta no vuol dire ormai sembra che il peggio sia passato ma guardate già che grande capacità di tecnica aveva casproff nei finali derivanti dalla neidorf quando riusciva a conservare la coppia degli alfieri qui arnason avrebbe dovuto cercare di cambiare subito una coppia di pedoni giocando c4 invece gioca c3 cercando di stabilizzare la posizione ma stabilizzare la posizione contro casproff non è proprio cosa facile a4 e qui casproff cosa fa prende in a4 una mossa apparentemente antiposizionale no perché si lascia il pedone a isolato e anzi si dà apparentemente un pedone c passato al bianco ma creare dinamismo nella posizione è essenziale naturalmente il pedone c non va da nessuna parte mentre la coppia degli alfieri può sicuramente avere un grande peso quindi prima cosa sbilanciare la posizione il bianco prende in a4 f5 vediamo rapidamente il nero ricolloca i suoi alfieri dopodiché avanza sul lato di re avanza sul lato di re e vedete come i pezzi del bianco siano un pochino disconnessi in particolare il cavallo fa fatica a trovare una collocazione stabile che è poi quello di cui avrebbe bisogno un cavallo per funzionare al meglio f4 e adesso qui diciamo è sorprendente la diversità di giudizio umano rispetto a quello del computer qui da un punto di vista umano direi che il bianco è in grossi guai e non a caso finirà per perdere il computer naturalmente non riesce a trovare la via di salvezza e però passa attraverso delle decisioni molto disumane ad esempio in questa posizione il computer addirittura sacrifica un pezzo andando a prendere in e4 e contando sul fatto di riuscire a cambiare l'ultimo pedone rimasto al nero e quindi di pattare in questa posizione nonostante il pezzo in meno naturalmente molto più facile a dirsi che a farsi invece arnason gioca a cavallo g2 apparentemente attaccando il pedone ma e kasproff lo sacrifica lo sacrifica in cambio dell'attivazione del suo re ha ceduto entrambi i pedoni che aveva in e4 e in f4 una concezione davvero importante però è andato a catturare il pedone b e adesso a procurarsi un fortissimo pedone passato alfiere c6 obbligatoria per fermare subito l'avanzata del pedone e kasproff recupera anche lui il secondo pedone quindi apparentemente però tutti questi cambi hanno avvicinato molto il bianco alla patta in fondo entrambi i giocatori sono rimasti con un solo pedone però guardate kasproff con quale finezza gioca fino all'ultimo momento re f1 re d2 il re blocca l'ingresso del re avversario in azione quindi apparentemente cioè sostanzialmente il bianco è costretto a giocare soltanto con i suoi pezzi non riesce a far partecipare il re alla lotta e nel finale questo è un bel problema alfiere b5 naturalmente il bianco mantiene l'alfiere su questa diagonale alfiere f5 e qui arriva l'errore finale cavallo d5 voi direte va bene forse non è la mossa più precisa forse il bianco avrebbe dovuto cercare di evitare di andare in giro con il suo cavallo e magari giocare una mossa come alfiere c6 quindi cercando semplicemente di oscillare con l'alfiere su questa diagonale ma non sarebbe stato comunque facile sarebbe arrivato alfiere g5 il cavallo si sarebbe mosso alfiere h3 scacco il re sarebbe tornato ancora indietro e magari qui il re si sarebbe portato in b4 per aiutare il suo pedone ad avanzare insomma non sarebbe stato per niente facile ma cavallo d5 perde subito perché perché il nero cambia gli alfieri e una volta che si cambiano gli alfieri ora andare a fermare questo pedone è veramente un problema re 1 il re finalmente si può attivare ma a 4 a 3 e qui non subito a 2 perché ovviamente il cavallo b4 scacco avrebbe fatto fuori il pedone ma si avvicina prima il re si costringe il cavallo a muoversi il re è pronto a sostenere l'avanzata a2 f4 qui a2 avrebbe funzionato subito ma il nero gioca prima alfiere c7 attaccando il pedone re b1 a2 re a1 con il re nell'angolo adesso basta un qualunque scacco su questa diagonale ed è matto alfiere a5 naturalmente minaccia lo scacco in c3 cavallo d5 per proteggere c3 ma arriva alfiere d2 e il nero e il bianco non può fare nulla per evitare semplicemente che il nero porti il suo alfiere in b2 diamato quindi non so f5 alfiere c1 cavallo b4 alfiere b2 matto quindi incredibilmente insomma kasparov è riuscito a vincere questo finale che pure non sembrava così pericoloso subando a dire il vero un bel vantaggio nel medio gioco in cui comunque aveva chiaramente sul classato il suo avversario che era stato un pochino troppo diciamo ingenuo nel permettere la spinta in d5 liberatoria pensando forse che il cambio sulla colonna d lo aiutasse ad avvicinarsi alla patta kasparov passano ancora la passa ancora un anno e kasparov è già più di 2600 elo quindi pensate giovanissimo nell'81 18 anni è già uno dei più forti giocatori del mondo e qui si incontra contro un altro avversario di tutto rilievo i udashin kasparov gioca di nuovo di nero perché così stiamo vedendo le sue partite di nero nella neidorf l'avversario gioca alfiere g5 e dopo f4 qui kasparov giocherà una delle sue varianti che lo renderanno famoso ovvero donna c7 qui ricorderete naturalmente donna b6 la variante del pedone avvelenato in cui il nero punta il pedone b2 alfiere a7 è la variante classica abbiamo visto b5 la variante polugajewski donna c7 una variante un pochino ibrida toglie subito la donna dall'inchiudatura la donna in c7 in una posizione comunque tematica nella neidorf e quindi sfida il bianco a prendere subito in f6 cosa che udashin effettua e questa posizione vedete è molto sbilanciata cosa che chiaramente kasparov amava di nero perché il nero ha una massa di pedoni centrale che può essere potenzialmente debole ma anche forte in base alle circostanze si apre la colonna g e soprattutto come state vedendo il nero ha già la coppia degli alfieri qualcosa di cui kasparov andava particolarmente fiero alfiere 2 il bianco continua a svilupparsi in modo tematico cavallo c6 in qualche modo si minaccia il cambio in d4 seguito in molte varianti dalla mossa donna c5 perché naturalmente un eventuale cambio delle donne faciliterebbe sarebbe ben gradito dal nero che in qualche modo quindi non avrebbe più problemi a tenere il sole al centro se sparissero le donne il nero avrebbe tutti i benefici della posizione senza aver più paura di dover subire un attacco nel medio gioco cavallo b3 quindi il bianco cerca di evitare i cambi b5 alfiere h5 ora questa è una mossa interessante nella sua diciamo nella sua stranezza perché perché in queste varianti spesso il nero gioca h5 lui stesso per poter giocare la mossa alfiere h6 quindi liberare l'alfiere sulla lunga diagonale dopo aver avanzato il pedone in modo insomma di non rimanere imbottigliato invece con alfiere h5 il nero chiaramente non può più giocare la spinta in h5 ma soprattutto nel caso che il nero decidesse di arroccare lungo come spesso fa in questa variante naturalmente si minaccia anche il pedone in f7 va bene però come dire c'erano ben altre priorità nella posizione alfiere g7 donna g4 attaccando subito il pedone e qui casparoff dimostra veramente un sangue freddo non non facile da vedere perché cosa fa va ad arroccare incredibilmente colonna g semi aperta suor il il suo re apparentemente molto esposto ma casparoff non ha paura e va ad arroccare perché naturalmente la sua idea non è folle lui è pronto a giocare cavallo e7 seguita da f5 cacciar via la donna e prepararsi naturalmente a chiudere la colonna g se necessario con il cavallo e nel mentre ad aprire l'alfiere sulla lunga diagonale arrocco lungo cavallo e7 b4 e poi arriva f5 attenzione non solo dopo e per f5 naturalmente qui il nero potrebbe riprendere in f5 tranquillamente e andare a stare meglio ma casparoff usa una tecnica che gli ho visto usare diciamo a lui con una frequenza insolitamente alta per rispetto agli altri giocatori quindi ecco perché lo associo a lui ma è una tecnica naturalmente ben nota rispetto agli altri ovvero spingere un pedone quindi invitare l'avversario a catturare e poi non ricatturare ma spingere il pedone a fianco e5 qual è l'idea naturalmente di andare a catturare lo stesso pedone ma con i pezzi dopo aver aperto ulteriormente la posizione quindi una specie di sacrificio temporaneo di pedone per l'apertura della posizione bianco prende in e5 ora però il cavallo deve muoversi se il cavallo si muove il nero può prendere in f5 non più di cavallo come aveva fatto prima che avrebbe in qualche modo consentito al bianco almeno di cambiare qualche pezzo ma con l'alfiere attaccando la donna e minacciando il matto in c2 con una posizione dominante del nero quindi donna g5 sperando di spingere in f6 h6 la donna viene cacciata via e il nero va a prendere comunque in f5 si cambiano i pezzi l'alfiere ecco qua la coppia degli alfieri di nuovo fortissima e Kasparov qui nel suo elemento torre c8 inizia ad attaccare sulla colonna c e4 si aprono si apre la diagonale anche l'altro alfiere alfiere 6 e qui vedete la coppia degli alfieri è veramente dominante donna a5 andando ad attaccare contemporaneamente il pedone a2 e l'alfiere h5 che insomma è rimasto vagante dalla decima dall'undicesima mossa e qui yudashin ha semplicemente abbandonato una dimostrazione veramente di forza spaventosa da parte del giovane gary Kasparov che aveva qui soltanto 18 anni bene siamo quindi ancora negli anni 80 ultima partita che andiamo a vedere negli anni 80 Kasparov ormai sull'orlo di 2700 puntiello incontra un altro giocatore fortissimo jan timman siamo nell'83 i due giocatori di nuovo neidorf alfiere g5 e ancora la mossa donna c7 tipica di Kasparov timman però gioca naturalmente decisamente meglio l'apertura per il bianco prende in f6 alfiere e2 donna dei due arrocco lungo h5 da parte di Kasparov come abbiamo detto no per giocare se necessario alfiere h6 o comunque per prendere spazio e magari continuare a spingere il pedone re b1 alfiere e7 Kasparov cambia idea non mettere alfiere in e7 per consolidare la sua struttura pedonale e poi qui attenzione finezza da parte di Kasparov prende in d4 come vi dicevo prima no se il nero avesse semplicemente arroccato lungo il bianco avrebbe potuto prendere in c6 e poi giocare f5 approfittando del fatto che l'alfiere non è più sulla diagonale invece cosa fa Kasparov vuole mantenere l'alfiere in d7 quindi prende in d4 e poi va ad arroccare lungo su f5 re b8 toglie il re dalla colonna c che è utile sia a scopi defensivi sia con l'idea di portare il nero stesso una torre sulla colonna c donna d2 h4 il pedone continua a essere spinto cavallo e2 alfiere c8 preparando tutto per la spinta del pedone d il bianco prende in e6 e gioca cavallo f4 con l'idea quindi di continuare l'attacco sul pedone e6 che il pedone potenzialmente più debo del nero torre g8 si va ad attaccare sulla colonna g donna e3 in qualche modo il diciamo la donna si toglie prima che arrivi la spinta in d5 torre g5 guardate che manovra molto particolare della torre da parte di Kasparov che non ha paura di mettere la sua torre al centro della schiacchiera perché è anche pronto tranquillamente a sacrificarla naturalmente in cambio di la coppia degli alfieri che lui tanto desidera torre d3 il bianco si prepara a raddoppiare sulla colonna d ma il nero porta il suo alfiere dopo averlo sviluppato temporaneamente in e7 però alla fine lo riporta nella sua collocazione più naturale alfiere h6 cavallo e2 h3 da parte di Kasparov ora qui è sorprendente vedere davvero che il consiglio del computer è di andare a prendere in h3 con una coppia di pedoni che appare decisamente condannata nel lungo termine dato che timan non è un computer umanamente gioca g3 cerca di mantenere la sua struttura pedonale più compatta torre h5 finezza da parte di Kasparov che toglie la torre e attacca la donna e dopo che la donna si muove allora dopo soltanto dopo torre c5 naturalmente l'immediata torre c5 non era possibile perché il bianco avrebbe semplicemente catturato l'alfiere in h6 quindi torre h5 la donna si muove torre c5 il nero attacca sulla colonna c cavallo d4 apparentemente difendendo quindi sia il pedone c2 sia preparandosi ad attaccare il pedone e6 potenzialmente il come detto il più debole nello schieramento del nero torre c4 finezza da parte di Kasparov perché perché la diciamo l'alfiere g4 che era la mossa preparata da timan per attaccare il pedone in e6 si sarebbe scontrata con la vincente f5 con l'idea che la presa in f5 e 5 vedete stessa sequenza che abbiamo visto prima Kasparov spinge un pedone e poi spinge subito dopo quello a fianco il cavallo si muove il nero cattura e la torre spostata da c5 a c4 può adesso andare a catturare l'alfiere in g4 rimasto in presa quindi guardate che finezza Kasparov in questa posizione a giocare torre c4 per impedire alfiere g4 donna e2 quindi preparandosi a giocare lo stesso alfiere g4 difeso però dalla donna torre g8 qui il computer inizia naturalmente a dare dei consigli un pochino sovrumani basati sulla spinta in e5 che però consentono al nero di bianco di piazzare un cavallo in e5 qui il nero dovrebbe essere costretto a cedere un alfiere e poi a giocare i4 su alfiere 4 torre 8 e sfruttare in qualche modo questa inchiodatura ma insomma sono sequenze molto da computer torre g8 invece molto più umana da parte di di Kasparov si ritira la torre attaccata la torre viene piazzata al centro in e5 qual è l'idea l'idea che naturalmente Kasparov vuole spingere in e5 ma se lo facesse subito il bianco potrebbe occupare per primo la colonna e e quindi Kasparov occupa lui stesso la colpa la torre con la torre la colonna e e poi tutto è pronto naturalmente per la spinta in e5 e qui Timman si fa un pochino prendere la mano e va a catturare il pedone in h3 che mi rendo conto era fastidioso ma non era sicuramente nelle priorità della posizione che sta invece esplodendo al centro Kasparov prende in e4 alfiere g7 preparandosi ad agire sulla lunga diagonale se necessario giocare torre h8 per attaccare la donna alfiere f3 f5 naturalmente il computer ha altre idee in questa posizione che è estremamente aperta e quindi naturalmente è difficile pareggiare la forza del gioco del computer che consiglia torre h8 seguita da torre c5 soltanto dopo la spinta dei pedoni invece Kasparov spinge subito i pedoni Timman gioca la mossa migliore della posizione b4 che sembra indebolire il suo rocco ma toglie la casa c5 la torre nera che è la cosa più importante e allora Kasparov cosa fa sacrifica la torre visto che non può andare in c5 dove sarebbe voluto andare la mette in e4 naturalmente il bianco non può andare a prendere in e4 perché in questa posizione avrebbe vinto giocando non subito la presa in d4 seguita da e5 attaccando la torre e attaccando la donna perché il bianco si sarebbe salvato con la sorprendente torre d7 chiudendo la diagonale ma invece prima in questa posizione e3 spostare costringere il bianco a spostare la torre e soltanto dopo andare a prendere in d4 e a questo punto il nero vince con questo doppio attacco sulla torre e sulla donna quindi dopo torre 4 il bianco gioca c3 per cercare almeno di riconsolidare il suo rocco indebolito ma a questo punto Kasparov è nel suo elemento l'iniziativa spinge in e5 qui il bianco si sarebbe solo potuto salvare con cavallo f5 con l'idea torre c4 e guardate però tutte le minacce che ha a disposizione il nero che preme su c3 che ha inchiodato il cavallo e qui sarebbe stata veramente difficilissimo per il bianco salvarsi ma avrebbe potuto farlo soltanto con la mossa da computer donna h7 ma insomma voglio dire inutile adesso andare a indagare queste iper difese disumane invece godiamoci la partita per quello che è torre c4 il nero preme di nuovo sulla colonna c alfiere d5 apparentemente attaccando entrambe le torri torre h8 si libera dall'attacco e contrattacca sulla donna e poi il nero sfonda in c3 e a questo punto naturalmente diventa tutto molto difficile per per il bianco se non impossibile andare a difendersi su questa diagonale la partita è durata ancora a lungo ma insomma team alla fine ha dovuto capitolare contro la forte iniziativa di Kasparov e ancora una volta Kasparov ha dato veramente una lezione di come gestire la posizione nella neidorf ok quindi finiti gli anni 80 facciamo un salto anzi ancora un'altra partita poi se non l'ero dimenticata ma breve ma intensa john nunn un altro fortissimo giocatore inglese grande maestro che gioca contro Kasparov una partita che se non ricordo male era una partita dimostrativa in un torneo diciamo non ufficiale Kasparov di nuovo siamo nella neidorf quindi alfiere g5 e 6 e questa altra volta Kasparov inizia a utilizzare quella che poi sarà il suo cavallo di battaglia la variante del pedone avvelenato qui la mossa teorica e donna d2 john nunn non vuole discutere di teoria con Kasparov gioca invece donna d3 che è un po la stessa idea ma leggermente diversa il nero prende in b2 e poi diciamo ritira la sua donna f5 per andare subito a mettere il dito nella piaga del pedone e6 che è potenzialmente il più il più debole dello schieramento del nero alfiere e7 cavallo c6 il nero naturalmente deve completare lo sviluppo dopo aver perso così tanti tempi con la donna per andare a catturare il pedone b quindi varie mosse con la donna adesso sta cercando di completare il suo sviluppo e cosa fa il bianco in questa posizione esegue una serie di catture per infliggere al nero un grave danno strutturale quindi prende in e6 prende in c6 e poi dopo che il nero ha apparentemente riconsolidato la sua struttura pedonale boom arriva e5 il nero prende in e5 e il bianco prende di nuovo in f6 e guardate la situazione apparentemente pennosa in cui versa la struttura pedonale del nero però questa è una variante in cui la struttura pedonale conta fino a un certo punto l'anadrofe è una variante estremamente dinamica dove i fattori quindi dinamici sono preponderanti e quindi qui bisogna chiedersi riuscirà il nero a consolidare i due pedoni di vantaggio oppure no questa è la domanda e soltanto l'analisi può dircelo alfiere h5 scacco re f8 e qui nan subito sbaglia e qui nell'anadrofe ogni errore è pesante donna d2 l'errore perché donna d2 è sbagliato dopo re g7 il bianco voleva entrare in h6 ma non può farlo l'idea giusta diciamo l'esecuzione giusta della stessa sarebbe stata donna e3 minacciando di entrare in h6 ma dopo re g7 il bianco avrebbe potuto giocare donna g3 scacco ricacciando via il re invece dopo donna d2 re g7 non c'è più nessuno scacco da dare e qui la situazione per il bianco precipita rapidamente caccia via la donna arrocca torre g8 il nero va a mettersi nell'angolino il bianco sembra avere un qualche forma di attacco ma la donna nera torna a difesa del suo arrocco cavallo e4 il cavallo minaccia cerca di minacciare qualcosa ma non c'è niente da minacciare f5 il bianco prova a creare qualche tatticismo ma si vede un po che insomma i suoi pezzi sono già appesi donna f8 minaccia il cambio delle donne cosa che naturalmente il bianco non può permettersi avendo due pedoni in meno torre g7 attacca l'alfiere l'alfiere è costretto a ritirarsi attacca almeno il pedone e c6 ma il bianco il nero non si fa spaventare a5 va a finire completare il suo sviluppo alfiere prende c6 alfiere a6 attacca la torre torre si muove naturalmente se il bianco catturasse na8 il nero catturerebbe in f1 con enorme vantaggio la torre si muove torre d8 il nero ha restituito uno dei suoi pedoni di vantaggio e in cambio di questo però ha ottenuto un'iniziativa fortissima il cavallo è sotto attacco l'ultima traversa è debole naturalmente gli alfieri del nero sono come immaginabile estremamente forti in questa posizione un po prematuramente ma come vi dicevo se non ricordo male era una partita dimostrativa john nun semplicemente abbandona quella che appare comunque una partita senza più grandi speranze bene siamo quindi arrivati abbiamo visto quindi concluso questa prima fase del della della carriera di kasparov nella night off abbiamo visto quindi i suoi anni iniziali gli anni 70 e poi gli anni 80 quelli in cui kasparov inizia a crescere scacchisticamente ad arrivare ai vertici quindi del del mondo scacchistico negli anni 90 però kasparov continuerà ad adottare stabilmente la night off soprattutto con mettendo successi contro avversari che sembravano letteralmente non essere in grado di fermarlo e nel prossimo video vedremo delle tre partite contro una coppia di avversari quindi tre partite contro shirov e tre partite contro nagel short che sono stati diciamo i due due tra i grandi avversari di kasparov negli anni 90 e vedremo come nonostante kasparov giocasse ripetutamente le stesse varianti contro questi avversari loro naturalmente che non avevano i mezzi di oggi per prepararsi da un punto di vista teorico finissero per perdere sempre contro di loro con uno score per certi versi imbarazzante se non ricordo male shirov arrivò a perdere veramente una decina di partite di seguito contro contro kasparov quindi una sequenza letteralmente imbarazzante per giocatori di quel livello ma kasparov sembrava proprio aver il suo come si dice in gergo insomma il suo numero di telefono essere in grado di di colpire continuamente nel nello schieramento di shirov in questa variante ma questo lo vedremo nel prossimo video a presto grazie per l'attenzione ciao